Ciao amici, bentornati sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri manati di sport. Parliamo di pallacanestro, ieri sera nelle coppe ha giocato sia l'Olimpia in Euroliga contro il Bayern, sia la Virtus contro Gran Canaria in Eurocup. Stavolta non riesco a fare la doppia copertura, ho scelto di seguire la partita della Virtus contro Gran Canaria. Mi interessava molto per capire ancora i progressi della squadra di Scariolo. È stata una partita bellissima, ha vinto la Virtus per 70 a 68, quello che è stato un anticipo anche di quello che saranno i play-off, perché Gran Canaria è in testa alla classifica, la Virtus sta cercando di guadagnare il posto nelle prime quattro per avere quantomeno il vantaggio del fattore campo nei folli play-off in partita secca, ma soprattutto, devo dire, incredibile questa metamorfosi difensiva che la squadra di Scariolo è riuscita a mettere in piedi nel giro di pochissime settimane. Una squadra che era potente soprattutto con il suo gioco offensivo e che vinceva le partite o le perdeva, grazie al gioco offensivo e a una difesa piuttosto a vista in alcune circostanze, in questo caso è diventato invece un gruppo difensivo clamoroso, ha tenuto il Gran Canaria un attacco splendido a soli 68 punti e ha portato a casa questo successo assolutamente importante, credo da un punto di vista psicologico ancora più che da un punto di vista poi oltre che da un punto di vista pratico. Mancava ancora Teodosici, mancava ancora Bellinelli, però il resto dei giocatori che sono andati in campo hanno giocato veramente una partita di grandissima intensità. Andiamo con i nostri punti, come detto il primo punto importante da tenere in considerazione è il punteggio, la Virtus oramai vince con la difesa tenendo gli avversari sotto i 70, l'è successo con il Prometheus, l'è successo con la Reggiana dove ha subito soltanto 70 punti in campionato ed eccoci ancora una vittoria di questo genere, peraltro poi il punteggio finale risente anche di un ultimo 10 secondi giocati piuttosto male della Virtus che ha preso due triple in faccia da Gran Canaria che hanno riavvicinato, ma era 62 Gran Canaria per 39 minuti e 50, quindi era ancora più sotto rispetto a questa linea di punteggio. Poi le scelte, le scelte in attacco, la Gran Canaria ha tirato 30 volte da 2 e 31 volte da 3, la Virtus invece ha fatto una scelta diversa, da 3 fa fatica, in questo momento poi ha fuori forse i suoi tiratori migliori come Teodosici e Bellinelli, ha tirato 20 volte da 3 e ben 39 da 2, fa valere la superiorità sotto canestro, Hackett che si spinge sotto il ferro, Cenghelia, le giocate Wims che va anche lui in penetrazione, Cordinier e riesce in questo modo a scegliere, a fare delle scelte offensive più valide e porta a casa le partite, questo è un altro grande punto da segnalare. Terzo punto da segnalare, l'atletismo totale, una squadra che ha valori atletici importanti che in questo momento stanno venendo tutti fuori, Cordinier ha fatto delle cose strepitose in difesa, stavolta anche saltando veramente in una maniera allucinante, ma anche Wims ha fatto delle belle giocate, Hervey ha fatto delle giocate sotto canestro, JT che stavolta ha avuto un po' più lavoro sotto i dominanti delle partite, stavolta ai lunghi sotto il Gran Canaria è molto forte dal punto di vista fisico, ha sofferto un po' di più, Samson salta veramente come un folletto e questo atletismo della Virtus è veramente un altro punto da prendere in considerazione, una squadra di esperienza ma anche atletica. La mentalità vincente di Hackett, per lui 14 punti, 4 su 7, delle giocate anche a fil di sirena sui 24 secondi, veramente notevoli, un giocatore che è entrato con una facilità assoluta in questa squadra e che sta mostrando la strada vincente, veramente. Canestri di Wims al momento giusto, Wims un paio di volte, due triple perfette, esattamente allo scadere dei 24, in momenti precisi per tenere a distanza gli avversari, in momenti topici anche della gara. La gara è stata tutta un'alta lena, la Virtus è partita benissimo, Gran Canaria si è portata sotto, si è andata avanti con grande equilibrio, massimo vantaggio attorno ai 5 punti ma spesse volte recuperato da parte dell'altra avversaria, la Virtus è stata comunque quasi sempre in vantaggio per cui da questo punto di vista ha assolutamente meritato successo ma soprattutto è saputo essere chirurgica nel mettere nel momento giusto i punti giusti, canestri giusti. Difficoltà anche oggi, diciamo, i due giocatori più in difficoltà Samson e Magnion, Samson ha giocato 12 minuti, Magnion solo 7, per Samson meno 7 di plus minus dei minuti in campo, per Magnion meno 5, sono i due giocatori che faticano forse un po' di più, Samson appunto ha questo debordante atletismo, per il resto forse ha qualche limite tecnico di troppo e fa fatica a dare un cambio accettabile a JT e Magnion deve ancora ritrovare la sua forma o quello che riusciva a fare in nazionale. Un vincente anche Schenghelia, 11 punti, 9 rimbalzi, si fa trovare pronto, anche lui mi sembra, era la sua terza partita solo in Eurolega, in Eurocup scusate, ma mi sembra che stia assolutamente già entrando nel livello anche lui di questa squadra, una partita spettacolare, una partita di Eurolega, una partita che ha avuto 11 stoppate totale delle due squadre, dovute appunto all'atletismo, Diop per esempio del Gran Canaria, un giocatore assolutamente strepitoso anche lui per giocate atletiche, ha avuto anche 31 palle perse, 15 della Virtus, 16 della Gran Canaria, frutto delle difese, frutto anche di questa emotività che ha portato a giocare una partita veramente con le marce molto alte. Per quanto riguarda l'arbitraggio, la terna era Jovcic, Sukis, Bittener, 6 e mezzo a Jovcic, 7 a Sukis, 6 a Bittener, è un arbitraggio nel quale più che i falli fischiati mi hanno convinto molto i non fischi, tantissime ottime decisioni soprattutto per permettere questo atletismo debordante che tante volte c'è stato e sono stati molto bravi a mio avviso gli arbitri a non fischiare, immagine di tutto, una splendida azione di Hackett dove in rimonta su Ennis nel terzo tempo a Canesso di Ennis fa un ostacolo col corpo perfetto e gli arbitri non fischiano molto bene, questo è esattamente il tipo di arbitraggio che aiuta la partita a essere ancora più spettacolare. Ultime parole sul Gran Canaria, gran squadra sicuramente sarà una protagonista, è un gruppo, è una squadra che ha diversi giocatori che quando entrano sanno mettere il proprio mattoncino, è una vittoria veramente prestigiosa e importante quella della Virtus, in particolare oggi mi sono piaciuti i giocatori fuori dello starting fine, al BC ha cambiato il ritmo, Diop ha giocato benissimo, Stevic con esperienza e grande questa gaccia tattica, Lopez con la difesa con Hackett, forse ha giocato troppo poco nel secondo tempo Lopez, perché nel primo tempo aveva fatto veramente molto bene, Schurma con i suoi tridi da tre, con questa tecnica tremenda, diciamo oggi sono un po' mancati nonostante i tanti punti Ennis ha sbagliato troppo e soprattutto Slotter ha giocato molto male, però Gran Canaria bella squadra e quindi questo a maggior ragione dice che è stata una grande Virtus, è una vittoria molto importante e molto prestigiosa che manda in là verso questi play-off che saranno veramente molto emozionanti di Eurocamp, grazie ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione, i vostri commenti, iscrivetevi al canale, vi aspetto con la pallacanestro e ci sentiamo con Olimpia contro Monaco domani, grazie a tutti, un bacio e ciao da Robs